potente a falla ragazzi qua è un bug da Jack oggi sono dal sole e sono qui a presentare il mio nuovo video che ragazzi è un nuovo pack opening innanzitutto ragazzi inizio con dirvi il motivo di questo video perché non è uscito un pink pal perché ragazzi ho detto se noi dobbiamo fare un pink pal di un nuovo giocatore del team of the week dobbiamo andarlo a comprare ma perchè non provare a trovarlo almeno prima quindi in poche parole questa è stata la motivazione abbastanza ambigua Che mi è venuta in mente prima Quindi in poche parole la sostanza Il succo del discorso qual è? E' che se troverò qualcosa in questo pack opening Lo andrò a pinfalare Quasi mi sa anche sicuramente oggi Se invece non troverò nulla Il prossimo video sarà un pinfale Che però sarà di un giocatore che appunto io andrò a comprare Quindi mi sembra una cosa abbastanza tattica Prima di iniziare vi ricordo di passare da FIFA CoinStash Il link lo trovate in descrizione E poi ragazzi vi volevo dire una cosa Vi volevo dire che forse Io ci metto il forse perchè appunto non voglio darmi una sicurezza Riuscirò a fare il pinpale Appunto se non lo troverò prima nei pacchetti Di Ibrahimovic Te... E' uscito per la terza volta Third if Quindi mi sembra una cosa abbastanza magica Adesso questa non è una certezza Ve l'ho già detto Non scrivetemi nemmeno per favore Quando lo farò Perchè non ne ho la pinpale da idea Dato che non ce l'ho ancora Però io vi inizio ad accennare Ecco poi non vi arrabbiatevi se appunto non lo farò Comunque tecnicamente parlando Dovrei riuscirlo a farlo Anche perchè questi 5... Io appunto domani non ho scuola Infatti domani andrò a sciare Andrò a sciare Quindi ragazzi con dei miei amici Non credo che io riuscirò a registrarvi qualcosa Però appunto se non uscirà il video domani Almeno sapete il motivo E quindi ci sono 4 giorni di vacanza In quei 4 giorni dovrò pure portare un video magico Comunque se voi lo volete Lasciate un bel mi piace Fatemi vedere in quanti siete E vediamo se raggiungiamo i 2000 mi piace Lasciate un mi piace anche per la fortuna E quindi primo pacchetto di oggi Non ho idea di quanti cripti andremo ad aprire Quanti pacchetti Primo pacchetto Grandissimo pacchetto Non abbiamo trovato neanche un giocatore Che non avevamo già Quindi mi sembra una cosa abbastanza magica E ragazzi io so cosa voi volete E so cosa stanno aspettando Datemi solo un secondo Ragazzi Voi Volevate La magica Misha Che è qui E Misha ora È in una posizione abbastanza ambigua E Misha noi ora Tu ora Scusate Andrete per un pacchetto Guardate un po' come lo schiaccia Madonna Misha l'hai schiacciato Misha l'hai schiacciato Vai a salutare un po' qua Yo Yo Madonna Andiamo a vedere Misha Andiamo a vedere Misha Ma dai Che schifo Io ho i gatti sfortunatissimi Madonna Sapunaru 2 pacchetti scandalosi Aperti Andiamo con il terzo Terzo con il naso Peggio Che peggio Non abbiamo trovato ancora niente Bains Che non ne ho idea di quanto valga Ma credo Veramente poco Tre pacchetti Tre pacchetti scandalosi Ma non male Non malissimo Mamma mia Non è possibile Ma stiamo Scherziamo Dai Col naso Col naso Ficcia giù Ficcia giù Ficcia giù Dai Oh Ti prego Tu Madonna Beata Pensavo il tour è buono Dai Ma perché trovo il fratello Ma non ha già la salsiccia Ragazzi Non stiamo trovando niente Cioè proprio noi stiamo prendendo i crediti Li buttiamo nel cesso Buono Quindi non mi sembra affatto male Andiamo a aprire un altro pacchetto Sperando di trovare un buon giocatore Col gomito hai già trovato Col gomito già Oh ma non ci posso credere Ta Però un irlandese Non male Non male Ma che schifo gli altri E' scandaloso E' scandaloso Così Così le voglio Così Quindi Andiamo a schiacciare Due volte le mani E le mettiamo così Dai 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 Cosci è lì Madonna mia Vabbè che la versione è da 83 E ci serve Però che scandalo Il fazzoletto pack Io andrò da soffiare il naso Mentre apriamo il pacchetto Beh No eh Ora lo trovo di sicuro Con questi due che hanno La stessa quasi maglietta E' già trovato Noi ci giriamo Io mi giro eh Tre Due Uno Aaaaaah Che bolle Non troviamo nulla Sta andando malissimo Malissimo Proprio male Mi penso due vendine all'occhio Io ti rende apri gli occhi Tra tre Due Uno Eh Due ottantuno Mani Cioè questo era If Settimana scorsa Che bolle Non stiamo trovando Nulla di nulla Solo cose che abbiamo già Eh no eh Eh no eh Questo è il pacchetto Questo è il pacchetto Questo è il pacchetto Sì Sì Nooo Che schifo Questo Questo è il pacchetto Di sicuro Dai Dai Oh No Che schifo Ah Di vaio No Ah io mi sono fatto anche male Cioè Se non lo trovo così ragazzi Se non lo trovo così E' introvabile L'ultimo pacchetto di oggi E andiamo Vestito da Snowboardista Dai Dai Oh Questo è buono Questo è buono Nooo Ne apriamo un altro Andiamo ad aprire l'ultimissimo L'ultimissimo Se non carichi Sto sudando come un bue Dai L'ultimo pacchetto Questo è buono Questo è buono Oddio Lo sento Dai Un raso Dai 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 No No Vabbè dai No Vabbè dai Ai Vabbè dai Vabbè dai Vabbè dai